Dal 13 novembre all'outlet di Saravalle Scrivi è aperto il temporary shop di Fuga di Sapori, la boutique della solidarietà e dell'economia carceraria. Il negozio Fuga di Sapori, aperto sino al 9 gennaio, è il risultato dell'incontro tra la disponibilità e la responsabilità sociale d'impresa del Saravalle Designer Outlet e della volontà della cooperativa sociale idee in fuga di far conoscere le sue progettualità e i buoni frutti del carcere. Il negozio offre opportunità di acquisto molto speciali, prodotti di economia carceraria provenienti da tutta Italia che rispettano e rispecchiano le eccellenze locali e artigianali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.